Marsilio a Roma è invitato alla seduta del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è stato invitato a partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri, dove il Governo aveva posto all'ordine del giorno la costruzione ed esercizio dell'opera denominata Metanodotto Sulmona Foligno. Nel corso dell'incontro è stato presentato il decreto teso a superare la mancata espressione dell'intesa per quando riguarda il Metanodotto Foligno Sulmona. Il Presidente Marsilio in Consiglio dei Ministri ha rappresentato le istanze provenienti dal territorio e le criticità che sono state espresse nel tempo, ripercorrendo il lungo e travagliato iter di quest'opera. Al termine dell'incontro ha chiesto al Governo e per tramite del Governo alla Snam di assumere tutte le necessarie misure compensative a seguito della realizzazione dell'opera. È stato quindi ribadito che l'opera in sé non serve all'Abruzzo, che riceve gas sia da nord che da sud, ma si tratta di un'opera strategica per l'intera nazione, come successivamente ribadito dal Ministro Cingolani. Al termine del confronto con il Governo, il Ministro Cingolani ha rappresentato la necessità e l'urgenza di questa struttura chiedendo a tutti i suoi colleghi ministri di approvare il punto in questione, che è stato approvato senza ulteriori condizioni. La Regione Abruzzo prende quindi atto della scelta del Governo italiano, secondo il principio di leale collaborazione istituzionale, e si adopererà per facilitare il rapporto con il territorio, anche con suggerimenti tesi a mitigare l'impatto dell'opera.